Intervenire con determinazione per consegnare a bambini e a giovani un futuro migliore. È il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella nella giornata internazionale dell'infanzia e dell'adolescenza. Nel fronteggiare l'emergenza, l'appello del Capo dello Stato servono strumenti educativi e sociali efficaci. Nadia Zikoski, poi Laura Cason. Dobbiamo impegnarci perché i bambini e i giovani non si sentano soli davanti ad una pandemia che mina il loro futuro. C'è una riflessione in più da fare quest'anno nella giornata dedicata all'infanzia, secondo Mattarella, e quella sulle conseguenze drammatiche che il virus potrà avere sui più fragili e sui loro diritti. Il numero dei bambini in povertà già prima dell'emergenza era drammaticamente alto, scrive il Capo dello Stato. Le diseguaglianze economiche ed educative tra le famiglie già così profonde da minare il diritto alla formazione, base della crescita e dello sviluppo del Paese. Numeri ai quali bisogna affiancare l'impatto psicologico dell'emergenza sulla vita quotidiana che cambia, provocando talvolta anche nei più piccoli ansia e preoccupazione. Bisogna che le istituzioni sostengano le famiglie che vivono il disagio e la disabilità, aggiunge, spiegare con chiarezza ai bambini cosa sta accadendo per sciogliere la paura che altera la percezione del reale in tutti noi. È questa per il Capo dello Stato la sfida che abbiamo davanti, agire contro l'abbandono scolastico, permettere a tutti i ragazzi di realizzare i propri sogni, tenere lontana da loro e dai bambini l'inquietudine. Dall'inizio della pandemia in Italia oltre 126 mila bambini e ragazzi sono risultati... Grazie a tutti!